Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla conferenza stampa che si svolta questa mattina in procura a Gela in merito al duplice infanticidio commesso martedì scorso. Ricostruita la dinamica dell'episodio che sarebbe avvenuto, secondo il medico legale, tra le 9 e le 12.30 per asfissia meccanica violenta. Viene escluso al momento il ricorso alla candeggina come arma di morte. Ancora è poco chiaro il movente del duplice delitto. Consulenze e perizie psichiatriche stabiliranno le reali condizioni mentali della donna ancora ricoverata in ospedale e nei cui confronti il GIP Lirio Conti ha convalidato l'arresto per duplice omicidio aggravato dalla discendenza. Vediamo. Nessun utilizzo di candeggina per uccidere le due sorelline Maria Sofia e Gaia, 9 e 7 anni. Dai primi accertamenti dell'esame autoptico si evidenzia morte per asfissia meccanica violenta. L'infanticida Giuseppe Savatta deve rispondere di duplice omicidio aggravato ai danni dei propri discendenti e quanto detto oggi nel corso di una conferenza stampa, dal procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Gela, Fernando Asaro, presenti il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Gerardo Petitto, ed il comandante del reparto territoriale di Gela, il maggiore Antonio De Rosa. La mamma avrebbe ucciso le sue figlie con le sue stesse mani e poi avrebbe tentato di suicidarsi. è escluso che le bimbe si sono state uccise ingerendo candeggina. I primissimi accertamenti ancora in corso su quello che è l'esame autoptico che è stato effettuato e la cui relazione l'avremo soltanto fra un paio di mesi allo Stato, in questa primissima fase, smentiscono la presenza di candeggina all'interno del corpo delle due piccole. La candeggina era lontano dalle bambine nella vasca e nell'ambiente del bagno dove si trovava la signora. Il procuratore fornisce la versione dei fatti in merito ad una probabile separazione dei due conigi che avrebbe potuto indurre la donna a compiere il duplice omicidio. Stiamo ricostruendo quelle che sono le modalità, le motivazioni, la causale che può aver determinato nella mente di una mamma una vicenda di questo genere. Per quelle che sono le nostre conoscenze in questa primissima fase delle indagini, non abbiamo elementi concreti e specifici in questa primissima fase delle indagini per poter dire che tale gesto poteva essere prevedibile. Il logipo del Tribunale di Gelari Dioconti questa mattina ha convalidato l'arresto della donna. La mamma si trova sottoposta in stato di arresto, in flagranza di reato, che è stato proprio convalidato e disposto alla custodia cautelare in carcere fino a quando le condizioni di salute non sono idonee per sottoporla a custodia cautelare in carcere in una struttura di stretta vigilanza. Giuseppe Savatta, subito dopo l'infanticidio, ha tentato di suicidarsi ed è stato il marito a salvarla. È intervenuto quando la signora era nella vasca da bagno tentando il suicidio. Dunque è ancora poco chiaro il movente dell'uccisione di Maria Sofia e Gaia Trenito. Sentiamo gli inquirenti. Due attività fondamentalmente. La prima è quella di sopralluogo e quindi di repertamento e constatazione della scena dell'evento e registrazione di tutti i particolari che poi rivisti successivamente potranno avvalorare o smentire le ipotesi investigative e le dichiarazioni dei presenti. La seconda parte invece è l'attività di scandaglio di tutta la rete di relazioni nel cui ambito si poneva questa famiglia per cercare di comprendere le motivazioni di questo dramma e se dalle relazioni, dai rapporti che avevano i due coniugi e le bambine con i parenti, familiari, amici, conoscenti, si possa arrivare a individuare un possibile movente o individuare eventualmente i semi della tragedia che poi si è verificata. Ancora da individuare il movente che ha portato la donna ad uccidere le due piccoline. Questo per il momento è, oltre che coperto dal segreto esuttorio, è un'attività che va riscontrata nel senso che noi abbiamo raccolto quello che ci hanno raccontato tantissime persone occorrerà incrociare queste dichiarazioni soprattutto alla luce di quello che ci dirà sia l'autrice del delitto sia i suoi più vicini familiari, la mamma, il marito, le insegnanti, i compagni di scuola. Il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri di Gela, il maggiore Antonio De Rosa. Stiamo approfondendo, sentendo le persone e riscontrando quello che è stato trovato sulla scena del crimine per definire tutti i contorni. Sicuramente c'è un profilo psicologico che va approfondito per quanto riguarda la signora. Dopodiché non abbiamo al momento elementi concreti per dire è maturato per un motivo e per l'altro. Su questo ci saranno degli esperti, eventualmente dei consulenti che si potranno esprimere meglio di noi. A posteriore è facile dire qualsiasi cosa che avesse detto alla signora che poteva essere interpretata in un senso o nell'altro, quindi è troppo puerile dire c'erano dei segni. Noi non abbiamo riscontrato elementi concreti per poter dire che avrebbe potuto compiere un gesto del genere. Quindi le altre cose sono ill'azione, noi ci basiamo sui dati di fatto. E ieri in una chiesa madre gremita Gela ha dato l'ultimo saluto alle due sorelline. Le esegue sono state ufficiate dal vescovo di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. Straziante il ricordo delle maestre. Una folla immensa composta, dato ieri l'ultimo saluto a Maria Sofia e Gaia Tranito, 9 e 7 anni, le due piccole bimbe assassinate martedì scorso dalla madre Giuseppa Savatta in Raptus di Follia, nella loro abitazione di via Passaniti. Due bare bianche, l'una accanto all'altra. Il padre Vincenzo non ha mai allontanato lo sguardo dai due feretri. Per espressa volontà della famiglia, i funerali sono stati celebrati in forma strettamente privata. Nessuna telecamera e nessun scatto fotografico all'interno della cattedrale. Ad ufficiale resequi è stato il vescovo della diocese di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. Accanto a lui c'erano il vicario Foranio, Don Michele Mattina, ed altri sacerdoti. In questa messa di gloria presentiamo al Tempio due bambine, che sono due angioletti. Come a quel tempo Maria e Giuseppe presentarono il loro bambino, ha detto il vescovo. Maria Sofia e Gaia sono innocenti quanto Gesù e la loro somiglianza a Gesù bambino sta proprio nella loro innocenza, nella loro ingenuità. Quello di Gaia e Maria Sofia è un sangue innocente e custodirà le sorti di Gela. Ho chiesto alla Signore quale senso possa avere questo gesto, ha proseguito. Senso non ce n'è. È il momento in cui è necessario, anche imprecando, di recuperare la relazione con Dio. È a Lui che bisogna credere. Siamo costretti a fare silenzio e ad accettare i tempi di Dio. In questa liturgia il Signore sta parlando a noi. Ma il mio cuore, ha continuato con la voce rotta dalla commozione, è segnato da confusione e rabbia. La nostra città è già sofferente e per tante ragioni questa ulteriore sofferenza non solo addolora ma piega, umilia. Dall'altare Monsignor Gisana ha tuonato perché ognuno si prenda le responsabilità di questo drammatico avvenimento. Ma non riusciamo a partecipare alle gioie, pensiamo a quanto sia difficile compartecipare al dolore degli altri. Questi due angioletti ci aiutino a pregare e comprendere la parola di Dio. Poi ha predicato il perdono e è invitato a consolare, sostenere, aiutare e pregare non solo per il papà e i parenti ma anche per la mamma. Straziante la ricordo alla fine della celebrazione della maestra e dell'Istituto Suor Teresa Valse che Gaia e Maria Sofia frequentavano. Siete state un dono nelle nostre vite, angeli dal cuore tenero. Vi chiediamo scusa per non avervi dato la possibilità di vivere i vostri sogni. Ciao Sofia, chiedi tanto protettiva con la tua sorella Gaia. Adesso è Gesù a darti il compito più grande, quello di continuare ad avere cura della tua amata sorella. Le due sorelline saranno tumulate nel cimitero monumentale di Capo Soprano. Cambiamo argomento, prorogate fino al prossimo 28 febbraio le limitazioni al traffico in vigore e sinora per ridurre l'inquinamento atmosferico in Via Venezia Gela. La decisione è stata adottata dal sindaco Domenico Messinese su proposta del comandante della Polizia Municipale Giuseppe Montana in attesa di verificare nei prossimi giorni lo stato della qualità dell'aria con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, l'azienda sanitaria provinciale e i settori all'ambiente del libero consorzio di Caltanissetta e del comune di Gela. L'ordinanza ad orari prestabiliti riguarda soprattutto gli autoveicoli di massa complessiva superiore a pieno carico a 3 tonnellate e mezzo. I mezzi esclusi sono quelli adibiti al trasporto di persone, al soccorso o che svolgono servizi pubblici essenziali. Anche a Gela botti di fine anno al bando il sindaco Domenico Messinese ha firmato una ordinanza con cui vieta l'uso di petardi ed altro materiale pirotecnico su tutto il territorio comunale di competenza. L'atto mirato a salvaguardare l'incolumità di persone, animali e cose è stato trasmesso a tutte le forze di Polizia. Chiudere l'anno sindacale è una reale utopia e tale resterà in considerazione delle tante vertenze in corso. Una provincia che continua a contare 270.000 abitanti che resiste alla crisi in grado di non vedere cancellate tutte le conquiste sociali che nei decenni sono maturate. Nel contempo è inutile nasconderlo. La provincia di Caltanissetta continua a non avere l'adeguata attenzione da parte di chi può e deve decidere le sorti delle due più grandi aree industriali. Caltanissetta gela per nulla sicure, sempre più poveri di servizi agli insediati e sempre più con capannoni vuoti. E' quanto dicono i segretari generali di Cigelle Cisle Will, Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania. Se dovessimo stilare una gradatoria, dicono, la provincia Nissena risulterebbe la più ingannata d'Italia nella misura in cui ogni settimana qualcuno dei politici che contano si alza e annuncia finanziamenti per le infrastrutture materiali ed immateriali per la sanità pubblica, così da pensare meno nella triste voce di bilancio mobilità sanitaria per qualità degli edifici pubblici scolastici, per opportunità lavorativa in linea con gli studi e o qualifiche professionali conseguiti. Cigelle Cisle Will hanno accennato la resistenza degli abitanti rispetto ad un declino che si respira in ogni comune dei 22 che compongono la provincia con una esposizione dei sindaci e degli amministratori tutti che non ha presidenza nella storia democratica istituzionale. Non abbiamo scelto di diffondere il documento politico di fine anno continuano perché abbiamo un obbligo legato a qualche protocollo, ma perché avvertiamo la necessità e l'urgenza di ribadire l'allarme povertà e spopolamento presente in tutti i comuni. Da dove arriva l'inganno? Da troppe parole vuote svuotate nel significato sociale originario, invecchiate senza aver visto nascere l'oggetto degli annunci. Un esempio su tutti riguarda il destino dei miliardi del contratto d'aria, del patto per l'agricoltura, di tutta l'idea della programmazione negoziata che doveva far vivere un nuovo e sano protagonismo imprenditoriale e invece ha generato macchie nel deserto, capannoni senza alcun perché, se non quello di giustificare la spesa senza produrre occupazione. Le sigle sindacali continuano a rivendicare il ruolo dello Stato ed è per questa ragione che l'interlocuzione con il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, risulta per le forze sindacali utile, preziosa, puntuale per tutte le pertenze che investono nel mondo del lavoro e con esso quello economico ed istituzionale. Se è vero che tutto si lega e ancora di più i fattori positivi devono essere preservati, CGL, CISL e UIL tengono a ricordare che il loro no alla paventata soppressione della Corte d'Appello è convinto e determinato. La qualità della vita dei cittadini dipende dalla solidità dei trasferimenti finanziari di Stato e Regione ai Comuni, ma dipende anche da come i sindaci si adoperano per evitare il collasso dei servizi alla persona, dalla riflessione scolastica al trasporto locale, all'assistenza agli anziani ed inabili. La resistenza dei cittadini di tutta la provincia riguarda anche la persistenza dell'organizzazione mafiosa che in modo silenzioso cerca di determinare scelte e affari e le operazioni antimafia registrate nel corso dell'anno ne danno ampia dimostrazione. Le sigle sindacali chiedono agli antipubblici ad iniziare dall'Inps un potenziamento dell'organico nei servizi di sostegno all'arreddito, così da evitare la disperazione di interi nuclei familiari e lo studio congiunto di un nuovo protocollo di legalità che eviti parole da libro dei sogni e contenga misure da realizzare immediatamente. Favorire l'autoimprenditorialità giovanile è l'obiettivo del bando Job Startup pubblicato dal Comune di Gela. L'amministrazione comunale con l'ausilio dell'Ufficio Europa e Bandi vuole promuovere nuove idee imprenditoriali giovanili in grado di creare occupazione e fornire ai giovani un'opportunità di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti come risorsa per lo sviluppo del territorio ed accrescimento di competenze e supportare idee che siano sostenibili e legate al territorio e sostenere l'accesso ai fondi legati alla nascita di nuove imprese. I giovani che possono partecipare al bando, singolarmente in team, in associazione o come impresa, devono essere residenti a Gela ed avere un'età tra i 18 e i 35 anni. Il fondo complessivo per nuove start-up ammonta a 25 mila euro da erogare a fondo perduto. Ogni richiesta di contributo potrà usufruire di 4 mila euro. Le domande degli interessati, debitamente istruite, vanno presentate all'Ufficio del Protocollo del Comune di Gela entro il prossimo 30 maggio. E' dai giovani che si forma una coscienza collettiva e può svilupparsi una nuova educazione civica. Da questa convinzione parte il progetto 2 di cuori. Si tratta di un progetto teatrale che rappresenta un modo nuovo di fare promozione sulla donazione degli organi e di midollo osseo. Il teatro come parte attiva nell'informazione della donazione e nello specifico della donazione di organi e midollo osseo. Utile e fondamentale perché il dolore di una famiglia per la perdita di un proprio caro possa trasformarsi in un indispensabile dono per chi necessita di un trapianto. 2 di cuori è stata scritta da Giuseppe Naretto, anestesista rianimatore dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino ed è messa in scena dai ragazzi dell'associazione Ollus con Salvatore nel cuore di San Cono. Appuntamento il prossimo martedì 3 gennaio alle 20 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. L'ingresso è completamente gratuito. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì, tale 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile, dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Rieccoci, la seconda parte del telegiornale continua fino al prossimo 6 gennaio nei locali del Palazzo di Città a Gela. La terza mostra di presepi, presepi in comune, realizzata dalle scuole locali, promossa dall'associazione turistica Proloco. L'iniziativa, il cui ingresso è completamente gratuito, manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva, che sta alla base del progetto turistico del Proloco. I presepi, come simbolo di rinascita, verità e giustizia, frutto del lavoro dei ragazzi, delle scuole, dell'artigiano artista, della raffinata combinazione tra abilità manuale e creatività. È presente anche una bancarella di beneficenza dello Soroptimist Club di Gela. La mostra può essere visitata dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 20 e 30. Il 6 gennaio è prevista anche una pesca dell'epifania. E può essere visitato ai prossimi 5 e 6 gennaio il presepi vivente allestito dalla associazione SMAF Sport, Musica, Arte e Folclore, preseduta da Gaetano Davide Arizzi. Appuntamento dalle 19 a mezzanotte nel quartiere Canalazzo a Gela. E potrà essere visitato fino ad oggi, dalle 18 e 30 alle 22 e 30, il presepe vivente allestito nella suggestiva piazza Santa Madre Teresa di Calcutta, antistante alla parrocchia Santa Maria di Betlemme a Gela, retta da Don Giovanni Tandurella. È stato ricostruito il villaggio di Betlemme con strutture semplici ed in cui è stata inserita la natività e le ambizioni tipiche dell'epoca con la rappresentazione di alcuni degli antichi mestieri. Garantita la prosecuzione dei servizi erogati dal centro di diagnosi e trattamento intensivo precoce dello spettro autistico e dal centro di urno per l'Alzheimer, oltre quelli previsti dal Piano Sanitario Nazionale, quali la riabilitazione nei reparti cosiddetti critici che rischiavano di essere interrotti a causa della scadenza, il 31 dicembre, dei contratti degli operatori sanitari. Contratti Coco Pro non più rinnovabili, così come previsto dal Jobs Act. Una corsa contro il tempo, quella avviata dalla direzione strategica dell'ASP grazie alla collaborazione di tutti gli uffici per garantire la prosecuzione dei servizi rientranti tra i LEA, ovvero i livelli essenziali di assistenza, che ha portato alla stipula di 59 contratti. È stata un'impresa veramente ardua. Hanno lavorato 19 commissioni, quindi 72 dipendenti, in doto più tutta l'organizzazione dell'azienda, le segreterie, i protocolli, perché abbiamo avuto circa 1700 domande. Sono stati selezionati i migliori e siamo sicuri di poter garantire questo servizio per tutto il 2017. Nel frattempo vedremo se riusciremo a far inserire questo personale nel contesto della pianta organica definitiva e quindi rendere più stabile il servizio. Oggi è una bella giornata, perché 59 persone avranno la possibilità di lavorare nel 2017. È una bella giornata perché sto verificando l'efficienza della nostra azienda, che ha raggiunto dei livelli di attività che sono veramente invidiabili. Questa attività importantissima per l'azienda è stata da noi presa in grandissima considerazione anche al supporto tecnico che ci è stato fornito dall'assessorato della salute. Fa parte di un contesto dove noi abbiamo garantito la possibilità a 59 lavoratori di lavorare intensamente all'interno dell'azienda, così come fa parte del contesto dell'azienda la possibilità di avere prorogato anche gli LSU e di avere prorogato tutti i contratti a tempo determinato per mantenere i livelli essenziali. Un sospiro di sollievo non solo per i lavoratori, ma anche per le tante famiglie degli assistiti, in attesa che si istituzionalizzino i servizi. Omini, mezzi omini, umnicchi e qua, quara, qua. È il titolo di un libro scritto da Antonio Scandrello e che verrà presentato il prossimo 13 gennaio alle 17 nei locali della Biblioteca Comunale in Via Butera a Gela. Relazionerà Biagio Pardo alla presentazione interverranno tra gli altri Angelo Fasulo, ex sindaco di Gela, Patrizia Zanone, l'assessore comunale Francesco Solimitro e il sindaco Domenico Messinese. Inizieranno il 2 gennaio e si concluderanno mercoledì 15 marzo i saldi invernali 2017 per la Sicilia. L'informazione giunge dal Confcommercio di Caltanissetta e dal sindacato provinciale di Federmoda Italiana. Ci auguriamo che la pille del logo salt di susciti ancora un'attrattiva nei confronti della clientela, consentendo ai negozianti di affrontare gli ultimi mesi con i giusti presupposti e completare una stagione che tra alti e bassi non è andata particolarmente bene. Così dicono Massimo Mancuso e Angelo Pio Cammalleri, rispettivamente presidente provinciale di Confcommercio e presidente di Federazione Moda Italia. Suggeriamo alla clientela di sostenere per quanto più possibile i negozi sotto casa, le produzioni locali e il made in Italy secondo un principio responsabile e consapevole di sostegno alla nostra economia. Confcommercio Caltanissetta e la sezione provinciale di Federmoda Italia hanno elaborato un vademecum per tutti i consumatori che potrebbero essere alle prese con la merce in sconto. Quando cambiarla, in che modo e rispettando quali regole per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio e Federmoda Italia danno alcuni consigli per i principi di base. I prodotti in vendita e di capi esposti nel periodo dei saldi devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di depreciamento se non venduti entro un determinato periodo di tempo. La pubblicità dei prezzi, ovviamente l'operatore commerciale su tutti gli articoli posti in saldo deve mettere il prezzo iniziale, lo sconto in percentuale e poi il prezzo finale. Le carte di credito durante i saldi possono essere accettate per il pagamento dell'abbigliamento o degli altri prodotti. La prova dei prodotti, il cliente ha il diritto a provare i capi per verificare la corrispondenza tra la taglia e il gradimento del prodotto, sono escusi dalla facoltà di prova ovvero tutti quei capi che normalmente non si provano come la bancheria intima ed altri prodotti. La merce si può cambiare durante il periodo dei saldi, l'operatore commerciale si impegna a sostituire se possibile i capi acquistati che presenteranno vizi di difformità. Confcommercio Caltanissetta e Federmoda Italia invitano anche la clientela a segnalare eventuali episodi in contrasto con queste regole negli uffici di via Messina 69 a Caltanissetta con un numero che si può fare 0 934 21 62 6. Si terrà oggi alle 20 nella chiesa San Francesco di Paola a Gela il concerto del coro polifonico Totus Tus Natale in Polifonia diretto dal maestro Mirko Musco con Rosa Alfieri al piano. Ed è partito il conto alla rovescia per dare il benvenuto al nuovo anno. Gela è pronta a trascorrere la notte di San Silvestro in piazza Sant'Agostino con una serata in cui sul palcoscenico si alterneranno la comicità di Pippo Franco e la musica dei DJ Mauro Miclini ed il radio DJ e Vincenzo Callea dei Typical. Lo spettacolo curato dalla situazione Timagora per la direzione artistica di Dario Melodia fa parte del cartellone natalizio promosso dal comune di Gela. Le manifestazioni dell'assessorato agli eventi retto da Rocco d'Arma apriranno il 2017 con un concerto benefico in favore dell'Unicef che si trarrà lunedì 2 gennaio alle 20.30. Sul palcoscenico del teatro Eschilo suonerà l'orchestra giovanile siciliana diretta dal maestro Raimondo Capizzi. L'iniziativa è stata voluta dall'associazione Amici della Terra. E in proiezione parliamo di cinema. Al Cineteatro Antidoto alle 17.30 il cartone animato Rock Dog alle 19.30 e alle 21.30 invece sarà proiettato il film. Non c'è più religione. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.